carissimi amici del canale youtube dentro la notizia matteo salvini sta cercando di portare i cittadini alle elezioni per far questo il governo deve cadere e nulla di meglio che far mancare i numeri al senato ecco quanto dice un fedelissimo di salvini riguardo ai contatti con alcuni dei cinque stenne più che altro facciamo cene ci rimpiangono a quanto lavoravamo bene con voi così ci dicono e hanno ragione specie nelle commissioni finanziarie ed economiche sarà creata una certa sintonia tra noi e loro in chiave anti pd sulle banche per esempio e ora vogliono tornare a mangiare la pasta e fagioli con noi perché ai dem non li sopportano i leghisti infatti sono da giorni impegnati in cene private con i grillini dissidenti quelli per cui il pd è rimasto ancora un nemico a dare il via libera al reclutamento spiega il messaggero è lo stesso leader della lega che se riesce nell'intento mette in serie a difficoltà al senato la nuova maggioranza la lista dei membri del movimento 5 stelle nelle commissioni parlamentari di tipo economico viene esaminata nome per nome dai leghisti carissimi amici del canale youtube dentro la notizia vi ricordo che potete sostenere questo canale con le vostre donazioni un abbraccio dal vostro robbie l'uomo 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 Grazie a tutti.